Chiede la collocazione di una lapide commemorativa nel cimitero dei Carusi con la data ai nominativi dei minatori che hanno perso la vita nella tragedia del 6 giugno del 1882 nella miniera Iungio Tuminelli, il consigliere comunale Michele Doro. Una richiesta che arriva in concomitanza con il 140esimo anniversario dall'incidente avvenuto a qualche mese di distanza da quello di Gesso Lungo, la cui data viene ricordata anche a livello regionale con la giornata in memoria delle vittime nelle miniere promossa dal governo musumeci. Il prossimo 6 giugno ricorre dunque il 140esimo anniversario della tragedia, scrive Michele Doro, e credo possa essere la giusta occasione per onorare anche questi minatori, accomunandoli a tutti i loro sfortunati colleghi che hanno perso la vita alla ricerca di un futuro migliore. Ancora una volta quindi si accendono i riflettori sul mondo delle miniere. Lo scorso weekend è stata celebrata infatti la 14esima giornata nazionale a loro dedicata e anche a Caltanissette è stata organizzata una mostra fotografica in Corso Umberto sulla tutela e valorizzazione del patrimonio industriale minerario delle miniere presenti nella riserva dell'Imera. Mentre nei giorni scorsi il tema è stato argomento di discussione nel convegno alla Camera sulle miniere in Sicilia, storie, evoluzione e prospettive, promosso dal deputato del Movimento 5 Stelle De Dello Pignatone, al quale ha partecipato anche l'amministrazione nissera e stancataldese, parlando anche di un progetto di rete fra comuni in cui erano presenti le realtà minerarie.